La Polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito in Lombardia e in Calabria un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone ritenute responsabili a vario titolo di reati tributari e fiscali, estorsione e in debito utilizzo di carti di pagamento. Sequestrati inoltre beni per oltre 13 milioni di euro, comprese abitazioni riferibili a un commercialista già tenutario di scritture contabili di società della Cosca d'Indrangheta dei Piromalli. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile della Questura di Milano e dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como e delle compagnie di Como e Olgiate Comasco della Guardia di Finanza sono state coordinate dalla Procura di Como e hanno consentito di fare luce su un complesso sistema fraudolento che, mediante lo sfruttamento strumentale e illecito di numerose società cooperative e il ricorso allo strumento delle emissioni di fatture per operazioni inesistenti, garantiva ingenti guadagni agli indagati, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata calabrese. Utilizzavano i soldi derivanti da attività di usura e distorsione per finanziare l'Andrangheta. La squadra mobile di Torino ha arrestato 16 persone e sequestrato beni e denaro per circa 3 milioni di euro a due organizzazioni di matrice indranghetista. L'indagine, coordinata dalla Procura di Torino, ha accertato, ma il dato è provvisorio, almeno 30 vittime di usura. Ai componenti della prima organizzazione, cappeggiata dal pluripregiudicato Vittorio Ceretta, sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata all'usura, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione a danno dello Stato, esercizi abusivi di attività finanziaria, intestazione fittizia di beni e riciclaggio. I componenti della seconda, cappeggiati invece dal sorvegliato speciale Renato Macri, noto esponente locale dell'Andrangheta, facente capo alla consorteria Ursino Scali Macri di Gioiosa Ionica, dovranno rispondere per i reati di usura, estorsione, riciclaggio, intestazione fittizia di attività finanziarie con l'aggravante del metodo mafioso. Durante le indagini si è delineato un terzo filone derivante dai prestiti a tasso usuraio elargiti dalla pluripregiudicato Vittorio Raso, attualmente latitante, in collaborazione con alcuni suoi stretti familiari e con l'aiuto delle mogli di Adolfo e Aldo Cosimo Crea, originari di stilo Reggio Calabria, reclusi in regime di 41 bis. Siamo orgogliosi che la Calabria sia la prima regione in Italia ad eseguire quanto previsto dal Consiglio dei Ministri, ancora prima delle regioni alpine tradizionalmente interessate dai fenomeni valanghivi e con tempi di esecuzione record. È un buon segnale per tutti noi. È quanto dichiarato da Domenico Pappaterra, direttore generale dell'ARPAC, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, che insieme al colonnello Giorgio Maria Borrelli, comandante del Comando regionale Carabinieri Forestale Calabria, ha presentato alla stampa i dettagli del protocollo, firmato quest'oggi, che dà il via alla collaborazione tra i due enti per implementare in Calabria il sistema di allertamento meteo valanghivo curato da Meteomont sull'intero territorio nazionale, gestito dall'omonima sezione della sala operativa del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Per l'ARPACAL sarà il centro funzionale Mutirischi, diretto da Eugenio Filice, a curare le fasi operative dell'accordo che prevede l'implementazione della rete di sensori in Calabria. Il Comando Carabinieri Calabria si impegna a fornire tutta una serie di dati nivometrici e sul pericolo delle valanghe, di dati rilevati nelle loro aree di competenza, che si concretizzano appunto nel bollettino Meteomont e l'ARPACAL sostanzialmente si impegna a collocare all'interno delle aree di competenza dei Carabinieri Forestali alcune stazioni di rilevamento del manto nevoso, ovvero dei nivometri, che saranno acquisiti nell'ambito del Port Calabria 2014-2020 che vede appunto l'ARPACAL come beneficiario. Come si possono frequentare le montagne in condizioni di sicurezza? Il tema vero è questo e questo riguarda non solo i cittadini calabrese, ma riguarda anche tanti turisti, persone che vengono anche a fruire nel periodo invernale delle nostre montagne e devono poterlo fare in condizioni anche di sicurezza. Nel solco della tradizione del Corpo Forestale dello Stato, l'arma dei Carabinieri, ha dichiarato il colonnello Giorgio Maria Borrelli, prosegue nel lavoro di prevenzione e repressione dei crimini ambientali, ma anche nel delicato compito di prevenire i diversi rischi per le popolazioni che vivono specialmente nelle aree rurali e montane, dove, ecco la specificità dell'accordo di questa mattina, il rischio valanghe è presente. L'accordo con ARPACAL permetterà di integrare con l'uso di sensori di alta tecnologia la rete che il servizio Meteomonte già possiede sul territorio nazionale e quindi avere una più ampia base di dati che è utile ai fini delle previsioni e della prevenzione dei territori. I cinghiali aumentano a dismisura e rappresentano ormai un problema di sicurezza. Le campagne di abbattimento vanno intensificate e rese possibili tutto l'anno, almeno nelle zone a chiara vocazione agricola. Lo chiede il consigliere regionale Gianluca Gallo, prendendo atto dell'inutilità delle misure al riguardo adottate negli ultimi anni dalla giunta regionale. Appena lo scorso luglio, ricorda il capogruppo della Casa della Libertà, il delegato all'agricoltura della giunta esultava per aver ottenuto l'autorizzazione ad abbattere 3.500 capi, salvo poi ricredersi a seguito della morte di un centauro di simeri crichi, assalito ed ucciso da un cinghiale, dimenticando l'entusiasmo iniziale e finendo col reclamare negli ultimi giorni di agosto misure straordinarie. Un comportamento divago che la dice lunga sulle incertezze in cui naviga la squadra del governatore Oliverio a fronte di un pericolo ormai divenuto costante perfino nelle località balneari. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è intervenuto in merito all'avvertenza Corap, il consorzio regionale per le attività produttive, rivolgendosi alla regione. Il primo cittadino reggino chiede cosa il governo regionale stia facendo e intende fare per risolvere in maniera definitiva la questione. Falcomatà chiede di fare chiarezza sul destino del patrimonio dell'ente. In particolare vuole conoscere come, in caso di liquidazione, l'amministrazione regionale intenda gestire l'ingente patrimonio del Corap, soprattutto quello ricadente nel territorio della città metropolitana, primo tra tutti le depuratori di Gioietaure, le aree industriali e limitrofe. Senza dimenticare comunque gli agglomerati industriali di Reggio Campo Calabro, Villa San Giovanni e le loro infrastrutture. Non è emersa nessuna criticità strutturale dalle verifiche effettuate nei 67 plessi scolastici di Catanzaro che sono state avviate dopo le scosse di terremoto di lunedì 7 ottobre. Mercoledì 9 ottobre pertanto le scuole di ogni ordine grado del capologo calabrese torneranno alla regolare attività didattica. L'ho reso noto il comune. Il risultato del monitoraggio completato nella mattinata di martedì, eseguito dai tecnici del comune coadiuvati dal gruppo comunale di protezione civile, è stato illustrato nel corso della riunione del centro coordinamento dei soccorsi della Prefettura. Nell'incontro a Palazzo di Governo l'amministrazione comunale è stata rappresentata dal capo di gabinetto Antonio Viapiana e dalla dirigente del settore e gestione del territorio Guido Bisceglia che hanno informato il sindaco Abramo delle decisioni assunte. Oltre che negli edifici scolastici non sono state riscontrate altre criticità nel territorio. Dopo la riunione è stato disattivato il centro operativo comunale allertato dopo la forte scossa verificatasi lunedì mattina a Caraffa, centro alle porte del capoluogo. 200 disabili gravissimi di Reggio Calabria, tra cui 10 persone con SLA, non ricevono dall'azienda sanitaria provinciale l'assegno mensile a sostegno dell'assistenza a domicilio dal gennaio scorso. Lo denuncia l'Aisla, l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Le persone con SLA, spiega un comunicato, vivono una situazione di grande difficoltà perché non possono muoversi, alimentarsi, comunicare e respirare autonomamente e richiedono un'assistenza di 24 ore su 24 che per le famiglie implica costi ingenti per poter contare ad esempio su una badante e su strumenti fondamentali come sollevatori e comunicatori. Le risorse bloccate ammontano complessivamente a oltre 1.630.000 euro e sono provenienti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, FNA, che ogni anno il Governo stanzia le Regioni per sostenere le persone con gravi disabilità con assegni di cura mensili. I nove mesi di ritardo nell'erogazione di queste risorse si sommano a gravi ritardi precedenti. La somma da sbloccare, infatti, proviene dall'FNA che il Governo aveva già stanziato nel 2015. Lesioni personali, atti persecutori e violazione di domicilio. Con queste accusi i carabinieri della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne rumeno residente nella città dello Stretto. L'uomo, introdottosi all'interno dell'abitazione della sua ex compagna con un doppione della chiave da lui arbitrariamente detenuta, l'ha aggredita in camera da letto mentre si trovava al telefono con il suo attuale compagno che, trovandosi in altra città per ragioni di lavoro, ha telefonato al 112. Nel corso dell'aggressione la donna, minacciata più volte di morte, è stata colpita ripetutamente con pugni al volto e nella colluttazione ha battuto violentamente la testa sul pavimento. Subito dopo l'aggressore si è rinchiuso nel proprio appartamento che si trova sullo stesso piano di quello della vittima e dall'arrivo dei militari dell'arma non ha consentito l'accesso per cui è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per forzare la porta d'ingresso. L'uomo è stato quindi arrestato, la donna invece è stata trasportata alla pronto soccorso da personale medico del 118, dove l'è stata riscontrata una prognosi superiore ai 20 giorni. La donna già in passato aveva denunciato per fatti analoghi l'ex compagno. Giornata importante per la Camera di Commercio di Reggio Calabria, si è insediato il nuovo consiglio camerale nominato con decreto del Presidente della Regione Calabria numero 284 del 2 ottobre 2019 e composto da 19 consiglieri. Espletate le procedure di insediamento, il nuovo consiglio ha eletto per acclamazione il Presidente, riconfermando alla guida dell'ente camerale Regino, l'imprenditore Antonino Tramontana. Questi nel ringraziare tutte le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni dei consumatori, sindacali e dei liberi professionisti che hanno ritenuto di portare avanti la sua seconda candidatura alla Presidenza della Camera, ha illustrato la sua visione del futuro della Camera di Commercio. Oggi ci sono state le elezioni, l'insediamento del nuovo consiglio camerale e l'elezione del Presidente, quindi è stata una riconferma, una riconferma per acclamazione, quindi ecco questo mi fa ovviamente tanto piacere, mi riempie sicuramente di tanta responsabilità, avere tutto il mondo datoriale, delle associazioni di categoria, dei sindacati, delle professioni, dei consumatori vicini e quindi che hanno ovviamente appoggiato all'unanimità una mia riconferma, ovviamente non può farmi che piacere e mi inorgoglisce. Una Camera di Commercio con un consiglio fatto da 19 consiglieri, tutti espressioni del mondo datoriale, del mondo sindacale, dei consumatori e dei professionisti, quindi gente veramente valida che entra in un ente importante per il territorio, un ente che vuole essere un ente di indirizzo, un ente di condivisione anche con chi oggi ci rappresenta, quindi con sicuramente un ente che cercherà una condivisione di strategie con la città metropolitana, un ente che cercherà una condivisione con l'ente regione, quindi ecco mi auguro che sia questa una consigliatura, cinque anni dove veramente potremmo come Camera di Commercio incidere per uno sviluppo economico dell'intero territorio della città metropolitana. Quali sono i progetti iniziati nel primo quinquennio che in questo secondo ci tiene a portare avanti? Sì, oggi la Camera di Commercio punta tanto su quelle che sono le funzioni che ovviamente gli vengono attribuite dal Ministero dello Sviluppo Economico, una Camera di Commercio che punta tanto sull'innovazione, quindi una Camera di Commercio sull'internazionalizzazione, sull'orientamento al lavoro, ma che cerca soprattutto di dare sviluppo e voce a tutti quelli che sono i settori dell'economia. Sono stati gli studenti di alcune classi delle scuole di Rovito e Casali del Manco i primi a avvercare la soglia del planetario comunale Cosentino, intitolato a Giovanni Battista Amico. Stamattina è stato dato ufficialmente il via all'attività didattica realizzata dall'amministrazione comunale e dall'associazione Fisicità, che fa riferimento al Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria e da oggi il planetario sarà aperto alle scuole tutte le mattine, da martedì a sabato. Il planetario di Cosenza ormai è a regime con la sua apertura quotidiana, giornaliera e la mattina è dedicata proprio agli istituti scolastici, un progetto che è didattico, scientifico, di spettacolo e di grandissima divulgazione scientifica. Oggi c'era anche un ospite d'onore, il direttore del planetario torinese, che ha avuto parole di plauso per la struttura cosentina. Sono sicuro che questa struttura meravigliosa che c'è qui attirerà non soltanto, diciamo, visitatori, i bambini e cose di questo genere, ma sarà anche un modo di avvicinare i giovani alla scienza che poi potete fare attraverso questa meravigliosa università che avete qui di fianco. A Cosenza, nel complesso monumentale di San Domenico, si è conclusa la rassegna letture e inchiostro, che completa la sezione beni parlati del Festival delle Invasioni 2019. Sono state due giornate intense, in cui si sono alternati numerosi ospiti che hanno dato vita a talk, presentazioni editoriali, letture, dibattiti e approfondimenti. Giornate di discussione, giornate di approfondimento e spero giornate che abbiano consegnato a ciascuno di noi qualcosa che gli rimane. La maggior parte di coloro i quali si sono avvicinati in queste due giornate sono sindaci, sono amministratori che discutono, diciamo, di questi temi perché sono quelli che per la fine fanno la politica dal basso, individuando e cercando di capire qual è poi il fil rouge che collega tutti e che può diventare l'indirizzo di una politica regionale che la Calabria deve avere. Io penso che dovremmo cominciare a parlare di occasione sud e la svolta vera della politica italiana sarà quando il sud finisce di essere una questione e diventa un'occasione da prendere. Tanti gli argomenti trattati nel corso delle due giornate, dall'editoria femminile agli spazi della cultura, ad un'ampia finestra a sud in cui è intervenuto tra gli altri l'onorevole Roberto Occhiuto. Il parlamentare nel corso della presentazione di Zero al Sud, il volume edito da Rubettino e scritto da Marco Esposito, ha introdotto anche una tematica di grande attualità, l'autonomia differenziata. Io non ho pregiudizi sull'autonomia, credo che è giusto che i singoli territori si determinino come vogliono, però noi abbiamo la Costituzione che dice all'articolo 116, all'articolo 117 che i diritti alla salute, i diritti alle prestazioni pubbliche debbono essere garantiti a tutti i cittadini in Italia, sia che nascano a Rovigo o a Trieste, sia che nascano a Reggio Calabria o a Messina. E noi dobbiamo pretendere che questo diritto costituzionalmente garantito sia assicurato allo Stato. Oggi non è così, perché oggi c'è una vera e propria sperequazione tra le risorse assegnate ai comuni e alle regioni nel nord del paese e le risorse assegnate invece agli enti locali nel sud del paese. Quindi prima realizziamo la Costituzione, garantiamo agli italiani di avere gli stessi diritti al di là del luogo dove vivono e dove sono nati e poi diamo più autonomia alle regioni e ai comuni affinché chi ha più risorse possa assicurare ai propri cittadini anche una quantità maggiore di diritto. Ma i livelli minimi e essenziali devono essere garantiti allo stesso modo in ogni parte d'Italia e oggi non è così. Proseguono gli appuntamenti del Festival d'autunno. L'attesa è per Ron il 12 ottobre. Ron canta Lucio Dalla e non solo. Sì, in realtà ci apprestiamo a vivere un weekend lunghissimo. Inizieremo esattamente venerdì 11 con la proiezione del film Senza Lucio di Mario Sesti in cui praticamente tutti i cantanti e gli amici di Ron parleranno dello speciale rapporto che avevano con questo grande artista tracciandone quindi le peculiarità non solo umane ma anche professionali. E dopo il 12 avremo alle ore 18.30 nel piccolo del Politeama la masterclass con Ron che proprio parlerà dei testi numerosissimi che ha composto per Lucio Dalla e alle 21 finalmente il concerto. Sarà un concerto particolare perché appunto Ron porterà in scena tutti i più grandi successi di Lucio Dalla al quale l'ha unito un suo dalizio umano ed artistico lunghissimo. La prima canzone che è composto insieme fu Piazza Grande e poi ne seguirono moltissime altre. Infatti diciamo la scelta della scaletta include per lo più le canzoni di cui Ron ha composto i testi. Ne cito qualcuna come ad esempio Tu non mi basti mai, canzone, Attenti al lupo, Anne e Marco, Futura, Tutta la vita. Veramente poi c'è da dire che le canzoni di Dalla sono tutte belle, che lui aveva veramente una marcia in più che lo rende attualissimo malgrado non siano passati ormai tanti anni dalla sua morte. L'omaggio a Lucio Dalla appunto di Ron che fu suo autore per moltissimi anni e che si darà appunto alle ore 21 mentre alle ore 18.30 di sabato ci sarà la masterclass ingresso libero e gratuito nel piccolo del Politeama e venerdì 11 sempre ingresso gratuito nella biblioteca comunale in Villa Margherita la proiezione del film Senza luce di Mario Sesti con l'introduzione di Ediv Italiano. Tu, tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai, tu, tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Certo è chiaro che mi farebbe piacere giocare di più, ma in questo momento l'obiettivo primario è il bene della squadra. Così Giuseppe Figliomeni, difensore del Catanzaro, a proposito del suo momento e di quello della squadra. Spero nelle prossime settimane di giocare di più, ha detto Figliomeni, qualora comunque così non dovesse essere. Continuerò a sacrificarmi per il bene del gruppo, come giusto che sia. Sicuramente non sono contento quando non gioco, è una cosa normale che capita a ogni calciatore dalla Serie A fino all'ultima categoria, però la cosa più importante è il gruppo e farsi trovare pronti nel momento del bisogno. Come oggi il mister ha ritenuto opportuno mettermi in campo e io ho risposto lì, perché è la cosa più bella, specialmente quando arriva una vittoria. Sì, perché faccio il calciatore e non faccio altro nello spogliatoio, nel senso io do una mano, essendo il più grande, sono qui per giocare come ho fatto l'anno scorso. Mi dispiace se ho sentito qualche voce, nel senso che sono stato infortunato tanto l'anno scorso, ma forse perché sono stato, perché ho 32 anni e magari ho messo più in risalto qualche problema che ho avuto, ma ho fatto tante partite, quanti altri giocatori che hanno magari dieci anni meno di me. Sono rimasto qui per cercare di vincere il campionato, ha osservato il difensore. Io sto benissimo a Catanzaro, la mia famiglia stiamo bene, sinceramente sento anche mia questa squadra perché l'anno scorso siamo ripartiti da zero e sento questo gruppo veramente come se fosse una famiglia, sinceramente. Quindi non mi interessano le altre cose, contratto o meno, poi se la società riterrà giusto farlo, ne parleremo. Io sono qua e sono felicissimo di giocare nel Catanzaro e vincere, perché voglio vincere il campionato. Grazie a tutti.